Buonasera dalla redazione dell'ETG della mobilità. Prosegue all'Eur la chiusura della Colombo per lasciare spazio alle gare di Formula E. La strada è chiusa tra Viale Europa e Via delle Tre Fontane, tra Via Laurentina e Viale Europa. Intanto in Viale dei Colli Porto Ensi, nuova chiusura al traffico in direzione della Gianicolense, da Via Ronzoni a Via Torre Cremata, sono deviate anche le linee bus 31 e 33. Domani mattina appuntamento con lo sport e con la Roma Appiaran che si correrà tra le 9 e le 11.30. Partenza e arrivo in Viale delle Terme di Caracalla, percorso su Via Appiantica, Via della Caffarella, Via Marco Polo e Via Leggiotto. Saranno deviate 12 linee bus. Sempre in centro nel pomeriggio tra le 13.30 e le 16.30, processione religiosa tra Via Petroselli e Via di San Teodoro. Possibili rallentamenti in questo caso per 15 linee del trasporto pubblico. L'elenco in dettaglio sul sito romamobilità.it Il Tg della mobilità per oggi termina qui. L'appuntamento è per domani mattina alle 6.30.